Il bilancio di fine anno degli assessori del Comune di Tolentino Elena Lucaroni e Fabiano Gopi. Saldi al via nella regione Marche venerdì 5 gennaio, giro d'affari in crescita del 5% rispetto al 2023. Nel fine settimana dell'Epifania a Monte San Martino torna la magia del presepe vivente. E nello sport parleremo anche di calcio, scontri tra Ultras durante la gara Maceratesi Semana, emessi 17 d'Aspom. Ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro Videonews. Un 42enne artigiano originario dell'Est Europa è accusato di stalking e mazzattamenti in famiglia. Ieri nell'udienza di Convalida, che si è svolta nel Tribunale di Macerata, il GIP ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari. Nella notte del 30 dicembre scorso, il 43enne avrebbe perso il controllo e si sarebbe presentato a casa della ex nella zona di Corso Cairoli a Macerata a tarda notte e completamente ubriaco. A quanto sembra l'uomo avrebbe preteso di entrare per parlare con la donna, poi avrebbe iniziato a fare una scenata terrorizzando l'ex compagna che ha chiesto aiuto al 112 e sul posto è accorsa prontamente una volante della questura. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di stalking. Segue l'ex moglie con l'auto e la costringe a fermarsi in strada, poi scende dalla vettura, la insulta e la minaccia anche nei pressi del luogo di lavoro di lei. È accaduto nel fermano dopo che la donna aveva prelevato la figlia dalla residenza dell'ex coniuge. Queste condotte sono state segnalate dalla vittima ai carabinieri che hanno denunciato l'uomo per atti persecutori. Il 4090 era gravato da un provvidamento di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dalla prefettura di Fermo nel 2011. I militari hanno effettuato ora specifici controlli ma non sono state trovate armi in suo possesso. L'episodio sottolinea l'importanza di garantire alle vittime di violenza domestica un luogo sicuro in cui poter trovare riparo grazie all'intervento celere determinato dei carabinieri della locale stazione. Voltiamo pagina. L'assessore alle politiche sociali del comune di Tolentino Elena Luccaroni ha ricordato facendo un bilancio dell'anno appena conclusosi i tanti progetti realizzati illustrando poi anche i futuri interventi che partiranno a breve. Scopriamo quindi di cosa si tratta nel servizio che vi proponiamo. L'assessore alle politiche sociali del comune di Tolentino Elena Luccaroni era presente alla conferenza stampa di fine anno. Nel suo intervento ha ricordato i tanti progetti realizzati nel corso del 2023 evidenziando come siano state vinte due sfide importanti quelle relative all'affidamento della gestione dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni e dei servizi mensa. Una scelta che ha portato ad un ulteriore miglioramento e ad una razionalizzazione sia dei servizi erogati che dei costi. Una scelta che permetterà una gestione con maggiori competenze, una maggiore capacità ed elasticità di acquisto senza aumentare la spesa che grava sulle famiglie di questi importanti servizi. Importantissimo ha affermato la Luccaroni anche il lavoro portato in stretta sinergia avanti con tutte le associazioni del terzo settore che ci permette di condividere iniziative funzionali e rispondenti alle esigenze del territorio. A tal proposito ha anticipato la prossima apertura di un caffè Alzheimer in collaborazione con il GALT ed altre associazioni del territorio a supporto dei malati di questa particolare patologia ma soprattutto per i familiari di chi combatte questa malattia. Altro punto qualificante è quello dell'apertura dello sportello antiviolenza che in rete con quelli già esistenti fornisce assistenza ed ausilio alle vittime di violenza e che è a servizio di un ampio territorio. Non meno importanti ha aggiunto l'assessore i progetti di offerta educativa nelle nostre scuole come il progetto REDD di educazione digitale che verrà ripetuto anche in questo 2024 in collaborazione con le dirigenti scolastiche e i docenti. Molti progetti in essere che qualificano l'offerta dei servizi sociali comunale tra cui la realizzazione della sede del Dopo di Noi con 12 posti che consentiranno la vita in comune a diversamenti abili rimasti da soli, la riqualificazione energetica dell'edificio che ospita il centro per l'infanzia e l'asilo Nido Cucciolo pronta per la riapertura dopo le vacanze e i lavori dell'asilo Nido Green con lo spostamento durante le vacanze Pasquali per iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione e assicurare così la riapertura nel 2025. Ci attendono quindi, ha concluso la Lucaroni, mesi di intenso lavoro per la realizzazione di progettualità molto importanti per la città e la riattivazione di tanti percorsi di condivisione e collaborazione con le associazioni non solo per la presa in carico di disagi sociali ma anche per progettualità a lungo corso. Oggi, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, lascia il servizio attivo dopo quasi 41 anni di vita militare il brigadiere capo qualifica speciale Marcello Dastolfo, decano dell'ufficio comando del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata. Il brigadiere Dastolfo, nel corso della sua carriera nell'arma, iniziata nel 1983 alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, ha prestato servizio all'ottavo reggimento Carabinieri Lazio, al nucleo radiomobile della Compagnia di Fabriano e alle stazioni Carabinieri di Belforte del Chienti e Macerata, per poi giungere nel 1993 al nucleo comando, ora ufficio comando, del Comando Provinciale di Macerata, dove si è distinto per professionalità e disponibilità, rappresentando per più di 30 anni un punto di riferimento per tutti i colleghi dei reparti presenti sul territorio ed un valido collaboratore per i comandanti che si sono succeduti al Comando dell'Arma di Macerata. In arrivo venerdì prossimo, 5 gennaio, il lungo weekend di saldi invernali. Sei marchigiani su dieci ne approfitteranno per fare acquisti, generando, secondo il Centro Studi Confcommercio Marche, un giro d'affari di circa 210 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2023. L'acquisto medio a famiglia sarà di 290 euro, mentre quello medio a persona di 130 euro. Le stime dell'ufficio studi evidenziano una tenuta della propensione al consumo dei marchigiani, in cui la moda in particolare ha contribuito in maniera determinante alla discesa e al contenimento dell'inflazione. Questi saldi rappresentano un'opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi convenienti. Maglieria, capi spalla, piumini, giacconi, scarpe e accessori moda saranno i prodotti più richiesti dai consumatori delle marche. Richiesti anche gli articoli tecnologici, seppur in minor quantità rispetto ai prodotti moda, considerate anche le vendite già registrate durante il Black Friday ed il Cyber Monday. Per gli operatori commerciali i saldi di fine stagione sono l'occasione per avere liquidità, rinunziando magari ai margini desiderati a favore di una maggiore stabilità aziendale. A fine 2023 anche l'assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi ha evidenziato i tanti problemi e le relative soluzioni che stanno interessando il tessuto economico Tolentinate a livello sia commerciale che artigianale. In occasione della conferenza stampa di fine anno, l'assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi ha evidenziato i problemi che purtroppo, a partire dall'ottobre 2016, data del sisma, stanno interessando il tessuto economico Tolentinate, soprattutto a livello commerciale ed artigianale. Si lavora continuamente con il sindaco e con gli altri colleghi di giunta, ha detto, per definire progettazioni e soluzioni che possano rispondere alle esigenze di questo particolare e fondamentale settore. Anche lo stesso spostamento del mercato settimanale del martedì è scaturito da un'attenta valutazione del mantenimento dei livelli adeguati di sicurezza a seguito dell'apertura di grandi cantieri in centro storico. Una scelta inevitabile ma sostenuta, ad esempio, con l'intervento dell'assessorato ai servizi sociali che garantisce un collegamento gratuito con la zona del mercato e il centro storico per le persone anziane o prive di mezzi. Il nostro impegno, ha ricordato Gobbi, è anche orientato ad essere al fianco delle nostre imprese con iniziative di diversa tipologia, dalla formazione professionale con attivazione di corsi promossi in base alle richieste delle aziende, alla formazione manageriale e alla valutazione delle performance aziendali. Da non dimenticare, ha concluso Gobbi, gli eventi che consentono di far conoscere Tolentino e le sue produzioni, favorendo l'incontro tra domanda e offerta e che stanno portando a interessanti joint venture e proficue collaborazioni. In maniera discreta ma costante, siamo vicini a commercianti, artigiani ed industriali, con l'intento di cercare soluzioni alle esigenze del tessuto economico Tolentinate, mantenendo una costruttiva interazione. È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola innovativa in Contrada Lornano, che ospiterà gli studenti dell'Istituto per Geometri Bramante e dell'Istituto Professionale Pannaggi di Macerata. L'edificio scolastico si sviluppa su un'area di circa 4.300 metri quadrati ed è realizzato con una struttura antisismica mista in acciaio e legno. Il presidente della provincia, Sandro Parcaroli, ha firmato il decreto per il via libera al progetto, redatto interamente dall'Ufficio Tecnico Provinciale, che prevede un complesso innovativo dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, che verrà realizzato proprio a Macerata accanto all'Istituto Agrario Garibaldi e potrà ospitare fino a 500 alunni, offrendo 20 aule, 8 laboratori, una biblioteca, una palestra e un auditorium con 200 posti. La città di San Severino si è candidata per l'assegnazione della bandiera Lilla, riconoscimento che spetta ai comuni che dimostrano attenzione per il turismo accessibile. Si tratta di uno stimolo per migliorare l'esistente e fare rete con le associazioni che operano sul territorio, ma non solo. L'impegno è quello di dare concreto sostegno alla promozione turistica e alla crescita dell'accessibilità, ma anche una risposta concreta agli 80 milioni di turisti disabili europei, che spesso trovano grandi difficoltà a muoversi e ad essere ospitati in diverse nazioni e in tante realtà italiane. Prosegue la collaborazione tra il Club Alpino Italiano, sezione di San Severino Marche e l'amministrazione comunale. La Giunta ha di recente affidato l'incarico agli esperti escursionisti del sodalizio cittadino per un nuovo progetto di tracciatura sentieristica per rispondere alla crescente richiesta di fruizione e scoperta di luoghi e paesaggi del territorio comunale attraverso il cosiddetto turismo lento, che rappresenta un'importante occasione di valorizzazione e promozione. In particolare il nuovo incarico riguarda la tracciatura e la posizione della specifica segnaletica del terzo sensiero escursionistico individuato nell'area Acquatrua. Di recente gli esperti del CAI avevano tracciato ben tre in sentieri dando vita al cosiddetto anello del Monte San Pacifico, un percorso di livello ercussionistico di media difficoltà che attraverso tratturri che partono da luoghi diversi arriva a due siti simbolo del territorio, la buca del terremoto e la chiesa della Madonna del Monte. Sabato 6 e domenica 7 gennaio ritorna il presepe vivente per le vie del paese a Monte San Martino. A parlarcele nel servizio che vi proponiamo è il collega Leonardo Virgili. Fervono i preparativi a Monte San Martino per la messa in scena della nuova edizione del presepe vivente. I volontari della locale Proloco in collaborazione con le altre associazioni stanno curando gli ultimi dettagli per trasformare il borgo dei Crivelli nella Betlemme di due millenni fa. A coordinare i figuranti, le scenografie e tutti i dettagli delle tante scene che comporranno la rappresentazione storica il vice presidente della Proloco Michele Cecchi. Il 6 e 7 gennaio a Monte San Martino proponiamo la seconda edizione del presepe vivente per le vie del paese. Ci saranno diverse scene principali come ad esempio l'annunciazione fino ad arrivare la natività e abbiamo anche il cambio moneta che così le persone possono anche interagire con i vari personaggi acquistando ad esempio delle pietanze di una volta. Ruolo attivo anche in questa edizione della banda musicale di Monte San Martino che con alcuni componenti si presterà a far suonare strumenti tipici del Natale. Simone Cardinali è il presidente del corpo bandistico di Monte San Martino. In questa seconda edizione abbiamo realizzato una collaborazione con la Proloco che organizza il presepe vivente e sfruttando la realtà bandistica presente su Monte San Martino da diversi decenni. Quindi grazie ai musicisti, esperti di strumenti a fiato che si sono messi in gioco nel imparare a suonare questi strumenti tipici del Natale, quindi la zampogna e la ceramella. L'evento si presenta quindi come un appuntamento sicuramente suggestivo per i visitatori ma anche come un'importante occasione di condivisione e di spirito di comunità per tutti i monsanmartinesi. In occasione dello spettacolo arriva la Befana in piazza proposto dalla Proloco e dal comune di San Severino sabato 6 gennaio. La polizia locale ha emesso un'ordinanza che vieta transito e sosta dalle 15 in Piazza del Popolo e in via Ercole Rosa fino all'intersezione con via Le Bigioli. Nello stesso orario saranno vietati transito e sosta anche in via Garibaldi, fatta eccezione per i residenti. Sarà inoltre obbligatorio proseguire dritto da via Nazario Sauro a via Salimbeni e da via Massarelli fino a via Salimbeni. Ultimo appuntamento per il Macerata Jazz, la manifestazione che celebra la sua 54esima edizione organizzata da Musicando. La rassegna si conclude venerdì 5 gennaio con l'esibizione della Musicando Jazz Orchestra insieme a Linda Valori nel loro nuovo progetto Soul, Rhythm and Blues Explosion. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria dei teatri in Piazza Mazzini a Macerata o online su vivaticket.com. È in arrivo dopo mesi di intenso lavoro il primo evento del 2024 firmato The Mood. L'appuntamento da segnare in agenda è per sabato 17 febbraio al Palazzetto dello Sport Giulio Chierici di Tolentino dove le porte si apriranno alle ore 23 e 30 per una serata unica e travolgente. Il viaggio inizierà con Filippo Del Moro, proseguirà con Riccardo Prosperi e si concluderà con la DJ producer Anfisa Leziago. Per altri dettagli seguite le pagine social di The Mood ed il sito ufficiale. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le notizie sportive. Previsioni per giovedì 4 gennaio. Cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne e prevalenza di sereno lungo la fascia collinare e costiera. Possibilità di brevi ed isolati piovaschi nei settori montani. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti di vento moderato teso con raffiche fino a burrasca forte. Mare poco mosso.